YOLANDA SWITZ Sott'acqua Io vi renderò partecipi di tutto ciò Grazie a questa videocamerina GoPro Che metterò all'interno dell'acqua Per farvi vedere Cosa faccio Io toccando lo slime e lo slime come diventa Appunto Allora Io metto play alla videocamera E vi inserisco nell'acqua Non vedo Vediamo Oh mamma Aiuto Eccola Io spero che si veda qualcosa Io lo spero vivamente Dentro l'acqua Siede in acqua Allora Vediamo un pochettino Allora io adesso mi chiedo gli occhi Mamma Silvia sceglierà degli slime Me li metterà all'interno di questa bacinella che vedete E io dovrò andare a Riconoscere che tipo di slime è Quindi mamma Silvia tu gli slime già li hai scelti? Sì Già li hai scelti Già li hai scelti Bene Allora adesso mi copro gli occhi Allora mi copro Vai mamma Silvia Inserisci Inizia? Sì Ok Inserisci il tuo primo slime all'interno della vaschetta Ok Ho paura Ho paura Hai messo? Sì Vado Oddio Allora spero che voi vediate anche con la GoPro Allora Vediamo Allora in questo slime ci sono le palline Da quel che vedo Da quel che vedo Ho capito È inconfondibile Perché ci sono dei cerchietti Con i buchi Questo slime è lo slime cereali fruit loops Fatto da me Non è comprato Ragazzi voi state vedendo qualcosa con la GoPro? Spero di sì È fatto da me Vediamo se è lui È lui ragazzi È lui No Addio slime Ok proseguiamo Chiudi Ok Chiudi gli occhi Fatto Chiudi 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 gli occhi Chiudi 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 Aspetta un attimo Io non mi muovo Te lo giro Brava no E non ti devi muovere E non guardare E chi guarda? Non guardare No Non devi guardare Apri Ho sentito ploff Ploff Eh yes Oddio Ma che Che hai messo dentro? Non te lo dico mica Che schifo E' viscido Ma che ci sta? Ho capito Questo che cos'è Oh mio dio Ma lo slime si è sciolto tutto Oddio Lo slime si è sciolto tutto Questo è lo slime Della schifido Quello là Stava dentro Che si mangia in estate Questo è lo slime Ice cream Della schifido Ok Si ragazzi Ora ma è tutto sciolto Tutto sciolto Quindi è impossibile andare a recuperare Ragazzi è proprio impossibile Chiudiamo almeno il cono Il cono Ecco il cono Dall'interno Il cono Eeeh Dopo qua andiamo ad andare a pulita Cioè ragazzi ve lo giuro Allora se volete magari recuperare Lo slime della schifido Questi qua Ice cream Metteteci un goccio d'acqua Che come vedete Praticamente si scioglie E' diventato morbidissimo Ok Vai mamma Silvia Di gli occhi Si Gli occhi chiusi ce li ho Vai E' una cosa non mica Morto Ossendo ploff Ploff Due volte ploff Ragazzi Oddio ragazzi Si è praticamente scelto tutto Cioè io forse Oddio ma cosa c'è dentro Io forse ho capito questo slime Che cos'è Questo è uno slime mio Questo è uno slime mio Nooo Questo era bellissimo Questo slime E questo è uno slime Fix Con tutta la neve finta dentro Oddio raga Ma praticamente l'acqua Penso sia diventata Lercia Cioè è diventata un rin Lercia Vabbè è ancora più difficile Vai Chiudi gli occhi Eh Vai Vado Ho sentito uno ploff incredibile Che cos'è? Oddio raga Allora questo Questo mi sa che è un mio slime Questo qua E' uno slime verde Quello alla mela Ho indovinato? Ho indovinato? E' dillo se ho indovinato a loro Io credo di no Credi di no? No Come no? Ho sbagliato Vediamo Nooo Non era verde Questo è uno slime comprato Credevo fosse il mio Quello là che ho fatto In un video ASMR Sbagliato Nooo Ho sbagliato Certo Con questa acqua Nooo Ragazzi Vabbè non fa niente Ti rifai Forza Vai Andiamo avanti Pronti? Via Oh no Mamma mia Puh Se io Puh Mi va a buttare Allora C'è una scapola E c'è uno slime E che slime Sembra un butter Oddio mi si sta sciogliendo Nelle mani Oddio ragazzi Che cos'è? Voi lo vedete Io no Vediamo Sono pezzi di slime qua Secondo me questo qua E' lo slime butter Della Schifidol Vero? Mi sembra il butter Vediamo Vediamo Nooo Sbagliato E' la pasta fluffy Come ho fatto a sbagliare? Ecco Come ho fatto a sbagliare? Due su due Ma no Come ho fatto a sbagliare? Vabbè ragazzi L'ultimo Ah l'ultimo Vabbè Vai Vediamo Ok Vai L'ultimo Sbagliato Quindi l'ultimo Praticamente decreta La mia vittoria o meno Certo Va bene Ah ragazzi ho paura Vediamo un pochettino Vincerò non vincerò? Chi lo sa Mamma Silvia Lo saprà Perché questa Adesso che metto Ragazzi Mamma mia Ha fatto? Sì Vai Oddio Non affondato È rimasto a galla Eh appunto È rimasto a galla Gli altri facevano pochettino Allora Questo secondo me Questo è uno slime butter E questo mi sa che è quello della Schifidol Fammi vedere È butter Ma è della Schifidol Nooo No Ma come lo sapete Dai Yolanda Allora 3 su 2 Niente vittoria Yolanda Ho perso Ragazzi Vale poi lo rifacciamo Ragazzi se volete Che noi rifacciamo Questa challenge Magari anche con Daniele Non lo so Oppure Magari Lo sai come possiamo farla Questa challenge? Sempre indovina lo slime dell'acqua Però mettendo gli ingredienti singoli E tu devi indovinare Che tipo di slime Esce da quegli ingredienti E che ingredienti sono All'interno dell'acqua Ok Lo rifacciamo Mi piace Raggiungiamo 8000 like Per questo video E lo faremo Mi raccomando ragazzi Raggiungiamo tanti like E facciamo questo Quel tipo di video Va bene? Ok Va bene ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto Che vi abbia divertito Ho voluto fare un video Pochino più alternativo Mamma mia Qua sopra veramente ci sta Il ben di Dio Va bene ragazzi Grazie mille a tutti per aver visto questo video Vi ricordo l'evento di Giustacchini Vi lascio qui La locandina Mi raccomando Partecipate in tantissime Venite in tantissimi Vi voglio tanto bene Vi mando un bacione Un abbraccio fortissimo E noi come sempre Ci vediamo domani Alle ore 14.30 Con un nuovissimo video Bye 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 bye